Oggi è il giorno delle mamme, oggi? Sì, happy mother's day, thank you, happy mother's day to you, happy mother's day, auguri a tutte le mamme, e siamo tutti la famiglia qui, sia Caterina, Flavia, Fina, tutti i cugini, questa è la nostra famiglia. Oggi siamo tutti assieme, tutta la famiglia, per Mother's Day, il giorno delle mamme, Kevin, Pina, mio marito Ian, Luana, così tu vedi tutta la nostra famiglia. Ci sono un paio che non sono qui perché stanno a lavorare, questi sono i figli di Ben, i nipoti di Flavia, e questo è il figlio di Flavia, la nuora, e la figlia, che sarebbero i figli di Ross, Maria, Sia Caterina, questo è Ross, il figlio di Flavia, Ross, il figlio di Jay, Troy, il marito di Maria, e questa è Gina e Ben, Johnny, il figlio di Pina, Hernando, il genero di Flavia, Franca, la figlia di Flavia, e le mie due sorelle, Ben, il marito di Flavia, Giselle, E queste sono la suocera di... la mamma di Troy, la suocera di Maria, che è il suocero. Ciao a tutti!